Ciao ragazzi e bentornati sul canale, come state? Spero che siate tutti bene. Questo è ovviamente il primo e penso unicumino della giornata, contando che impegni mi hanno tenuto lontano dal poter registrare i video. Comunque, in questo qui parleremo di un giovane attaccante classe 2002 di nazionità belga, che oggi ha svolto le visite mediche per un importante club di Serie A. Ma prima di arrivare al noccio della questione, vi ricordo come sempre di lasciare un like al video, e iscrivervi al canale e attivare la campanella di girare notifiche per ricevere tutte le feed dal canale. Quindi ricevere tutte le notifiche riguardo i miei prossimi video. Qui sotto in descrizione vi lascio anche il link del mio secondo canale di set football, dove parlo di calcio, soprattutto calcio italiano, ma in lingua inglese. Quindi, un progetto appena avviato, mi raccomando, andate a darci uno sguardo. Ma arriviamo al noccio della questione. Questo attaccante 2002 belga si chiama Timo Betten e oggi ha svolto le visite mediche con il Torino, classe 2002 che è cresciuto nel club NXT, comunque affiliato al Club Rouge, ma che la scorsa stagione ha giocato, si è trasferito appunto al club NXT, al Neck Niemegen squadra di Proximus League, vale a dire la Serie B belga, dove devo dire che non ha giocato molto in quanto 10 partite, un solo gol è veramente un minutaggio risicato, Fonte Rassfermar 124 minuti, quindi voglio dire veramente un 13 minuti a partita scarsi. Classi 2002 è di 185 centimetri, Torino attaccante al grande fisico, chi viene in mente è Belotti, ma non perché voglia fare un paragone, bensì sappiamo la situazione contattuale di Belotti, che va a scadenza, comunque non si sa ancora quello che l'attaccante italiano voglia fare, ma il Torino in parte diciamo si è cautelato, prende appunto questo giocatore in prestito con diritto di riscatto a 200.000 euro, più un bonus su una percentuale sulla futura rivendita, e l'attaccante appunto verrà impiegato come fuori quota in primavera, quantomeno per prima stagione, ovviamente con uno sguardo da parte della prima squadra, ovviamente poi c'hanno anche Di Luca, però non so, evidentemente non ci punta la squadra granata, ma chi è Thibaut Bater? Allora, è un attaccante da grande fisico, mi ha stupito molto il fatto che sia sinistro di piede, però usi bene anche il destro, c'è nel senso quando, a parte che tira bene anche destro, però mostra quella cazzimma, diciamo, quella sfrontatezza che non si fa problema a tirare di destro, non è uno che tenta un attimino, vede, no, gli capita l'occasione, boom, cerca appunto il tiro col piede debole, sia sottoporta ovviamente che da distanza, quindi questo sta a denotare anche un suo killer instinct proprio di natura, fa parte della sua età under 19 belga, e è anche dotato veramente di un'ottima corsa, nel senso che comunque, nonostante abbia questa grande mole, corsa fluida, e anche un buon dribbling, quindi diciamo che è un po' un centro avanti moderno, moderno, quindi fisicato, che però ha degli ottimi fondamentali, e a differenza appunto di Belotti, che magari tecnicamente non l'orebbero un grande giocatore, anzi, molto simile a Ciccio Graziani, quindi tecnicamente neanche questo granché, però finché Belotti lo tiene in area, troppo troppo, però se gli chiedi ovviamente di fare il gioco di sponda, di prendere le mazzate a partita su partita, per farsi degli altri, insomma, ecco Beten non è proprio per niente così, è uno che gli piace correre palla al piede, che quando fa valere il fisico, non lo fa valere in un modo stile Belotti, quindi protezione palla, per fare la sponda, e fare a botte con gli altri, no assolutamente, è uno che stoppa il pallone, ma ha sempre votato a girarsi, e andare verso la porta, quindi a questo punto di vista, è un attaccante veramente interessante, dovrebbe ancora dimostrare tanto, perché comunque con l'NXT, era veramente giovane, ha avuto anche una buona media goal, con Neck Niemeyen, insomma, la seconda divisione olandese, non è che parlo del Genk, o dell'Underlecht, o del Krab Rouge, ma con Neck Niemeyen, ha fatto queste dieci partite risicate, quindi, il processo di crescita, deve essere anche graduale, sicuramente, sarà un profilo, che la dirigenza Granata, terrà in considerazione, eventualmente, per il post-belotti, non per questo, secondo me, hanno fatto questa opzione, come dire, io intanto lo prendo, che poi, il discorso di prestito, con diritto, ha un'ambivalenza, può avere una valenza positiva, nel senso che dice, ok, io me lo prendo, investo poco, però ci punto, magari, punto ad avere un riscatto basso, e poi magari, se mi va bene, lo riscatto. Seconda cosa, valenza negativa, invece, è, io intanto me lo prendo, nonostante il costo non sia alto, lo voglio comunque in prestito, perché voglio vedere, e non sono del tutto convinto, perché secondo me, se veramente ci avessero puntato, dalla prima stagione, l'avrebbero messo, in prima squadra, in un 2002, che ti va a fare, il fuoricuoto, in primavera, onestamente, poco lo capisco, poco lo capisco, perché, che ambizioni ha la primavera? Zero, cioè, l'obiettivo del Torino, è quello di, eventualmente, trovare un sostituto di Belotti, contando che lo perderesti, eventualmente a zero, neanche dici, ok, oh, ci guadagno 50, 60 milioni, 40 milioni, gli rinvesto un attaccante, lo perdi a zero, quindi non ci guadagno niente, ecco perché, io onestamente, se veramente credono, in questo, eh, Beten, io penso proprio, che ci debbano proprio, puntare, e iniziare in questo anno, un processo di crescita, vedere come si sviluppa, per poi integrarlo, in prima squadra, perché altrimenti, l'investimento, anche se, poco oneroso, è andato, secondo me, perso, ovviamente, spero che questo video, è stato utile, in tal caso, mi piace il video, iscrivetevi al canale, campanellina, e dato uno sguardo, a Inside Football, ci vediamo al prossimo video, che sicuramente, ne avrò, un po' di interessanti, perché ne ho un pochino, da preparare, su temi anche, un po' più tecnici, però, staremo a vedere, starete a vedere, più che altro, vi mando un abbraccione, e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi. Ciao ragazzi.